Salve a tutti, oggi siamo sul nuovo X7.6 VT Drive e andremo a vedere insieme come impostare i distributori. Dal nostro monitor DSM andiamo nei sottomenu, selezioniamo quello delle valvole ausiliarie e ci troviamo i nostri distributori. Per ciascun distributore abbiamo diverse impostazioni, la possibilità di bloccare il distributore per evitare azionamenti accidentali, la possibilità di regolare il flusso in entrambe le uscite tramite un comodo tastierino numerico. Abbiamo la possibilità di impostare un timer che può andare da zero a infinito se vogliamo utilizzare il distributore come motore idraulico. Per i distributori abbiamo poi delle impostazioni avanzate che sono lo shape engagement che ci permette di andare a regolare la sensibilità del comando del distributore e il time engagement che ci permette di regolare il ritardo all'azionamento. Infine abbiamo lo scambio valvole. Lo scambio valvole ci permette di andare a associare i distributori ai comandi a seconda delle nostre esigenze operative. Da questa finestra basta selezionare due distributori da voler scambiare a seconda del comando a cui vogliamo associare e dare conferma. Per quanto riguarda le impostazioni dei distributori è tutto, vi ringrazio per l'attenzione.